Finalmente, finalmente, quanto c'è voluto, quanto c'è voluto! Si è sbloccata la Juve! Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Benvenuti in questo nuovo video post partita di Malmö Juventus, partita di Champions! La Juventus si è sbloccata nella partita forse più delicata! Se non vincevi oggi, se non portavi a casa la vittoria, rischiavi davvero di entrare in crisi! L'approccio così e così, non mi sono piaciuti i primi dieci minuti, però buona gara della Juve! Caso strano, quando gioca bene il centrocampo, i risultati arrivano! Ottima prestazione di Bentancur, tanti palloni recuperati, ottimi strappi di Rabiot, che tenta anche qualche conclusione da fuori! Juventus che, come sempre, non tira quasi mai da fuori! Finalmente, un Alex Sandro convincente! Sblocca lui! Bellissimo il gol di Alexandro! Un colpo di testa in tuffo, in area di rigore! Juventus che poi dilaga! Sbloccata la partita, la squadra ha ritrovato sicurezza, compattezza, Malmò mai pericoloso, non mi ricordo un tiro! Juventus che chiude la gara nel primo tempo! Raddoppio di Dybala su calcio di rigore, col brivido! Il numero 10, Juventino, scivola sul dischetto! Fortunatamente la palla entra! Tra un Dybala ispirato, giocate d'alta scuola, Moratone firma proprio alla fine del primo tempo! Bellissima azione bianconera, si fa trovare al posto giusto e al momento giusto! Un'azione tutta di prima, dal centrocampo all'attacco! E Morata fa un bellissimo gol a scavalcare il portiere! All'incrocio dei pali, buona Juventus! Non c'è da esaltarsi perché, come dicevo, l'approccio è stato timido! Una vittoria importantissima! Juventus che finalmente non prende gol! Ottima gara di Bonucci, di De Ligt, di tutto il reparto difensivo! La Juve ha vinto la partita a centrocampo! Bentancur, Locatelli e Rabiot quest'oggi hanno fatto la differenza! Tre squilli e la Juventus porta a casa la prima vittoria importante di questa stagione! Una boccata d'ossigeno in casa Juve! Fatemi sapere, come sempre, la vostra opinione! Pollice in su! Se vi è piaciuto il video, un bel commento qui in basso! Se vi fa piacere, condividete il video nel mio infobox, tutte le mie pagine social, Twitter, Instagram e Telegram! A tutti quelli che non conoscono il mio canale, senza obbligo, qui in basso, doppio clic su iscriviti e sulla campanella delle notifiche! Per non perdere i prossimi video e le prossime mie live! Grazie a tutti e alla prossima! Bliss!